Ciao ragazze, allora volevo parlarvi di alcuni prodottini che ho usato e posso già dire la mia opinione parto con due campioncini che ho, lo shampoo crema all'estratto di avena e olio di sesamo rivitalizzante per cappelli ricci di lamande non mi è piaciuto, mi ha lasciato i capelli molto secchi e il balsamo, olio di germe di grano e vitamina E, sempre lamande, rinforzante, districante, facilita la pettinabilità mi è piaciuto molto, districa istantaneamente, lascia il capello morbido, però quello che ho notato è che mi si sono sporcati molto velocemente cioè l'indomani forse è stato un po' pesante poi, sto provando da un po' di settimane questa crema a mani, scusate c'è l'aletta della custodia del telefono che scende questa crema a mani dell'Estée Lauder, questa crema qua, vi cerco l'italiano allora, regala alle tue mani l'azione di una crema straordinariamente lenitiva e innovativa formulata con preziosi ingredienti dalle proprietà idratanti e la nostra esclusiva ed avanzata tecnologia antidiscromie questa ricca crema idrata in profondità ed aiuta ad attenuare la presenza di macchie scure leviga visibilmente le rugosità, le mani appaiono più giovani e morbide la pelle è soffice e idratata anche dopo aver bagnato le mani più volte io forse ve l'avevo già letta comunque per me è buonissima devo dirvi che cerco di non esagerare nell'uso ne metto poca, rende molto assorbe in fretta è vero, leviga proprio la superficie della pelle e delle mani sulle discromie non vi saprei dire io... cioè le discromie che si hanno rimangono forse la pelle è più schiarita questo sì, le discromie rimangono ma almeno non ne vengono altre mi sta piacendo veramente tanto sulle 50 euro quella costa però rende dura come non mi è dispiaciuta che sta finendo e andrà nei terminati quindi la antietà neutrogena alla soia attiva SPF 25 anche questa qui protegge la superficie delle mani colorito delle mani più uniforme macchie brune ridotte non saprei forse... perché vi spiego quella di Estée Lauder la uso la mattina quando esco e la sera prima di dormire durante il giorno al lavoro mi porto questa qui di neutrogena quindi probabilmente tra tutte e due qualcosina fanno questa è più unta non assorbe facilmente però la trovo veramente nutriente mi è piaciuta veramente tanto dovrebbe costare sulle 3-4 euro ottima, ottima, ottima poi ho provato questo bottino di Avon Natural Skin Care che è Lonei Essential Balm with with qualcosa e miele guardate questo qui dovrebbe costare 2,50 euro sul catalogo è quello che vi avevo detto che sapeva di budino alla vaniglia è buonissimo questo è il profumo buonissimo e idrata veramente tanto le labbra e le zone secche tipo le punte dei gomiti ad esempio ma si secca tanto qui anche se non è inverno mi si secca dal naso perché avendo l'allergia sono continuamente ad asciugarmi le lacrime a soffiarmi il naso quindi sono zone ad esempio l'ho messo anche qui una sera e mi ha allenito proprio l'angolettino qua dell'occhio della lacrimazione perché mi si secca e mi si irrita ottimo ottimo prodotto mi piace poi ho aperto provato perché la curiosità è donna è femmina questo shampoo e balsamo natura siberica and haladale che sarebbe shampoo naturale riparatore all'estratto di cardo biologico idrata profondamente i capelli mentre il ginepro svolge un'azione rinforzante per capelli forti e vitali così come il balsamo naturale riparatore c'è scritto la stessa cosa quindi sono a base di cardo biologico e ginepro ottimi 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 non avevo dubbi dubbi lo shampoo districa molto bene già quando lavate il capello il balsamo in un nanosecondo vi districa i capelli li nutre io il balsamo lo uso come maschera cioè lo metto e poi lo tengo su 5-10 minuti magari il tempo di fare lo scrub o magari se li lavo fuori dalla doccia il tempo di darmi la crema corpo e lo lascio agire in questo modo qua ottimi ottimi il profumo non è eccessivo sa di fresco di erba fresca sembra quasi di erba appena tagliata e non rimane sul capello nessun odore forse un lieve lieve odore di questa erbetta fresca appena tagliata buono buono come la maschera della stessa linea promossi benissimo vi ho detto quello che ho usato da un pochettino e ovviamente questi li ho usati due volte però ragazze ve ne accorgete subito di queste cose qua io me ne accorgo subito forse anche perché conoscendo la linea la casa ve ne accorgete subito se il cappello reagisce in un modo o reagisce in un altro ovviamente non tutti i capelli sono uguali però io sul mio capello e le creme sulle mie mani hanno reagito benissimo come anche il bottino sulla mia pelle ciao ciao